Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo a parlare di sicurezza dopo aver visto Arva, Pala e Sonda. Oggi parliamo del sistema Recco. Vedremo un attimo cos'è, come si utilizza e soprattutto quando ha senso utilizzarlo e quando invece risulta abbastanza inutile. Iniziamo il video. Iniziamo parlando di cos'è il sistema Recco. Questo che ho nella mia mano è un Recco Reflector. Ne esistono di diversi tipi, esiste questo qua semplicissimo da andare ad attaccare sopra lo zaino, ne esiste, il Recco vende una cintura per i pantaloni in cui è integrato più o meno lo stesso riflettore e questo riflettore è presente anche su tantissimi capi di abbigliamento, zaini, caschi. Diciamo che tantissimi produttori stanno iniziando a metterlo sui loro prodotti per aumentare la sicurezza, ecco. Ma cos'è questo sistema Recco? Come dice la parola questo è un riflettore che va a riflettere un segnale, perché come funziona il sistema Recco? Noi abbiamo un dispositivo che fa da trasmettitore e ricevitore. Questo va a emettere un'onda che andrà a colpire il nostro riflettore e l'onda tornando indietro verso il trasmettitore che fa anche da ricevitore, in questo caso come dicevo, riceve l'onda. Quindi poi attraverso vari calcoli fisici si può arrivare a capire la distanza, l'angolazione, una serie di altre cose. Però questo è il principio del sistema Recco, ovvero un dispositivo che emette l'onda, il nostro riflettore la riflette, e ha lo stesso dispositivo, ritorna la sua stessa onda e va a capire tutti i dati. Quindi per cosa è stato pensato il Recco? Il Recco è stato pensato come ausilio a quella che è l'ARVA, a un metodo di sicurezza in più. Ma perché non può andare a sostituire l'ARVA? Perché, come sappiamo, se non sapete, vi lascio qua in alto a destra il video dedicato all'ARVA palesonda in cui lo spiego, ma facendo un piccolo recap, quando abbiamo l'ARVA, entrambi possono fare dal trasmettitore e ricevitore e quindi noi in poco tempo possiamo andare a trovare la persona sepolta. Se noi utilizzassimo solo il Recco, considerato che il dispositivo che va a emettere e ricevere il segnale non è in vendita, ma lo possono acquistare solamente stazioni sciistiche e soccorso alpino, beh, in quel caso lì noi dovremmo chiamare o il gestore di una stazione sciistica o il soccorso alpino. E capite che per fare intervenire queste due persone, beh, ce ne può passare di tempo, anche quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora. Infatti, infatti, il Recco si è preso un brutto soprannome in quello che è, diciamo, il gergo delle guida alpine, ovvero il cercamorti. Così lo chiamano, perché di solito quando uno viene trovato attraverso il dispositivo Recco è perché è passato tanto tempo e la persona viene trovata morta. Motivo per il quale, ci tengo a precisarlo, il Recco non può assolutamente sostituire l'ARVA. Quindi, se volete prenderlo a supporto dell'ARVA, va bene, ma non al posto dell'ARVA. Anche perché, dal punto di vista normativo, infatti, se andiamo a vedere tutte le leggi che sono state fatte nazionali e regionali, il Recco non viene mai, mai citato. Però, perché vi sto parlando del dispositivo Recco se non ha così tanto senso al posto dell'ARVA? Perché, secondo me, ha senso in tutti quei casi in cui, diciamo, il tempo non è la discriminante. Mi spiego meglio, se noi ci perdiamo, magari cadiamo in un diruppo, sì, ci sono fatti male alla gamba, però non riusciamo a chiamare il soccorso e anche se aspettiamo un'ora, due ore, non succede niente, stiamo lì, aspettiamo. Ci sono tanti casi in cui il sistema Recco può essere molto utile. Siamo tutti quei casi in cui non abbiamo l'ARVA. Di solito il soccorso alpino cosa fa? Prende e magari utilizza 100 persone per andare a cercarlo. Quindi magari ci vogliono giorni di spiegamento di mezzi, di persone, cinofili, tutta una serie di entità, persone, che aumentano i costi e aumentano anche tanto i tempi. Se noi avessimo tutti un dispositivo Recco messo sullo zaino, allora il soccorso alpino dovrebbe solamente prendere il suo elicottero, con attaccato il dispositivo Recco, passare sulla zona dove si presume che ci sia la persona e nell'arco di cosa forse? Un'oretta? Due ore? Giusto il tempo di passare sulla zona dove si trova la persona e noi lo troveremo subito. Quindi senza mettere in pericolo vita di altri soccorritori, di spiegamento di mezzi, soldi e via dicendo. Questo, secondo me, ha senso veramente, diciamo, dalla primavera all'autunno, nel momento in cui noi andiamo a fare camminate, andiamo a fare trekking, proprio perché se ci perdiamo e il telefono, il nostro cellulare, non prende, allora questo può venirci davvero tanto in soccorso. Anche perché tenete conto che al momento in Italia il soccorso alpino ha tre dispositivi Recco per la rilevazione, da attaccare sotto l'elicottero, poi però ci sono tante, tante, tante stazioni scistiche che ce l'hanno e che comunque anche d'estate possono intervenire naturalmente. Vi lascio qua sotto il link dove potete andare a vedere tutte le stazioni scistiche che utilizzano la tecnologia Recco perché sono veramente tante, parliamo di 800 e passa. Perciò, tiriamo un attimo le conclusioni. Ha senso questo dispositivo Recco? Sì, prima cosa perché è veramente economico, cioè questo riflettore costa 25 euro e molte volte, come dicevo, lo troviamo anche sopra gli zaini, quindi semplicemente andiamo a comprare uno zaino, sopra il nostro abbigliamento, quindi sta diventando molto diffuso come dispositivo. E ha senso proprio per essere trovati da soccorso alpino, per essere trovati nel momento in cui noi abbiamo un infortunio, ci perdiamo e via dicendo. Perciò, ragazzi, una speranza che sia stata risolvente risaustiva anche per questo video. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo. Ciao!